Come vedete sono Luigi Cozzi e stiamo lavorando qui su questo set preparando il film Godzilla. Godzilla che vedrete presto sugli schermi in una nuova versione. Non si sa con che cosa abbiamo a che fare. Una sola fiammata gigantesca ed accecante distrugge otto navi. Questa nuova versione di Godzilla che noi stiamo preparando è la versione del classico originale, quello del 1954, però in una versione completamente nuova gli stiamo dando qui una nuova luce, un nuovo vigore, lo stiamo riprocessando, aggiungendo, modificando, mettendolo a stereofonia a quattro piste magnetiche per farne il più grande, il più spettacolare, il più catastrofico film che si sia mai visto sullo schermo. A giudicare le fotografie supera certamente 150 metri. Il risveglio di Godzilla è stato causato dalle ripetute e explosioni nucleari. Il distruttore d'ossigeno può essere usato. Mi dispiace, se non ci liberiamo di Godzilla, che sarà di noi? Godzilla è interpretato da Raymond Barr. Raymond Barr è il famoso autore americano della finestra sul portile di Hitchcock e anche la serie televisiva delle avventure di Perry Mason. Questo video permette, grazie a un collegamento a distanza, che vedete, di avanzare fotogramma per fotogramma con film. Ogni secondo di proiezione passano 24 fotogrammi, in un momento e 40 di proiezione i fotogrammi sono circa 300.000. George, qui in occhio ci sembra di essere tornati indietro nei tuoi milioni di anni. Questo sta accadendo sui miei occhi. Il mondo di questo, chiamato ormai da tutti Godzilla, emerge in questo momento dalle acque. Il resto del mondo non conosce mai una simile sciagura. Il mondo di questo, chiamato ormai da tutti i miei occhi. Godzilla è il più grande, spettacolare, travolgente film che si sia mai visto sullo schermo. L'ultracatastrofe del cinema veniristico Godzilla.